Eccoci qua, buonasera signori, buonasera amici di Facebook, amici di Telecittà. Questa sera ci troviamo di nuovo al ristorante Monte Carlo con la signora Francesca. Signora Francesca, buonasera. Buonasera signor Biffa. Questa sera mi pare che c'è un evento abbastanza importante o no? Importantissimo, questa sera abbiamo un gruppo speciale, sono i Poo. I Poo, benissimo. Ecco, c'è un gruppo di Siracusa che suona la musica cover dei Poo. Cover dei Poo, bellissimo, sono un gruppo meraviglioso, veramente, sono andato a due minuti di là a guardarli e è spettacolare. Quindi voi Francesca, l'equip del ristorante Monte Carlo, oltre a fare quelle serate, questa sera avete avuto la bellissima idea di far suonare questo gruppo. E' già abbiamo visto all'interno del cortile bellissimo, meraviglioso, che io non ho visto mai, che questo gruppo si esibisce. Allora io direi, ci puoi accompagnare per vedere questo? Certo, assolutamente. Seguiteci. Grazie. Certo, assolutamente. Certo, assolutamente. Perché nessuno al mondo mai ti capirà, capirà. Infine che non ha più scopo la pietà, quello che tu non sai, quello che tu non sai, è che al mondo non c'è, c'è chi piange per te. Ti voglio chiedere una cosa, ti trovi qui stasera per l'appuntamento musicale o sei venuto per caso? Diciamo che ho un giorno libero, quindi siccome siamo sempre impegnati con mia moglie, ho detto questa sera andiamo in Ortigia, andiamo in questo Monte Carlo, questo locale. Che l'ho sentito dire? È un bel locale, in effetti l'ho visto, è molto bello. E poi sei, siccome sei un appassionato di musica, vuoi ascoltare questo gruppo, che poi vuoi fare una valutazione del gruppo. Ma già li ho sentiti, li ho sentiti poco fa, sono in gamba, soprattutto perché sono dal vivo. Allora Carmelo ti lasciamo a gustare, non so cosa, pizza, ristorante, non lo sappiamo. Ora vediamo cosa prendo. Grazie Carmelo, con la tua cara signora, Giussi, tu sei un appassionato di musica, sei un marito musicista. Ormai sì, da quando sto con mio marito ancora di più, sì. Quindi questa giornata di relax, lasciamo stare il lavoro, ma ti vuoi ascoltare della buona musica. Sì, sì, un po' di relax ci vuole. E questa sera siamo qui proprio per questo. Nel viaggio vedrai, in un grande sogno antico, la tua nuova vita solitaria ti sospingerà e un dubbio ti conquisterà. Noi vogliamo sapere una cosa, una cosa importante. Se sei un fan del gruppo, di cui c'è il tributo questa sera. Cerco di seguirlo il più possibile, perché so, oltre ad essere amico di alcuni di loro, la mia infanzia è stata seguire la musica dei Bù, quindi quando ne posso ne approfitto a seguire. Però io ti voglio chiedere una cosa, una curiosità. Vuoi dare un punteggio a questo locale meraviglioso? Guarda, è la prima volta che vengo, l'ho visto soltanto alcune immagini che voi avete trasmesso con la pubblicità. Mi sono innamorato del luogo, ma questa sera avendo mangiato, scenato qua, posso dire da nove e mezzo, quasi dieci. Quindi un ottimo locale. Carlo, com'è avuto questa felice idea di realizzare questo locale stupendo a Siracusa, in via Santa Teresa? Per dare una sveglia a Ortigia e dare movimento e turismo. Purtroppo ci sono queste cose burocratiche che ci bloccano, anche la gente che ci blocca a fare anche degli eventi, che dice che ti diamo disturbo, ma facciamo musica per la gente per passare la serata. Ma rispetti gli orari? Rispetto gli orari abbiamo tutte le autorizzazioni e tutto con tutte le fasi. Complimenti, sperando che puoi realizzare qualche altra cosa chic come questa che hai fatto Monte Carlo in via Santa Teresa. Grazie a voi. Oltre ad ascoltare la musica mi pare che è venuta a consumare una buonissima pietanza. Sì, sì, sì. Hai mai venuto a qua? No, è la prima volta. Come l'esempra questo locale? Bellissimo, bellissimo, romantico, bellissimo. Cosa ti piace di più di questa band? Pensi che sia vicino all'originale dei Poo? In base alla mia esperienza musicale non saprei, però mi è piaciuta molto la voce del cantante, che ricorda un po' quella del cantante dei Poo. Quindi si è vicino. La band è molto brava dal punto di vista musicale. Qualcosa del locale? Beh, la pizza era buonissima. Invece come location? Beh, la location è molto bella. Lei non è di Silacur? No. Di dove è di prima? Di vicino Roma. Ah, bellissimo. Vicino quale località? Pomezia. Ah, che bello, ci sono stato. Tu vendo, grazie. Complimenti. Gente scappa da Pomezia, lei c'è stata? Vieni fuori, fuori dal mio cuore, tu non sei quel che rendi per me, perciò ti chiedo ancora, oh yeah, fuori dal mio cuore. Che voto darebbe a questi musicisti, iniziando dal cantante al chitarrista, al bassista e così via? A uno per uno. Ma guardi, io veramente do il massimo a tutti quanti, perché sono effettivamente molto bravi. Mi seguo già da un bel po' e sono veramente bravi. Allora, il cantante che voto le dà? Nove e mezzo. Al bassista? Nove. Chitarrista? Al chitarrista dieci. Quanto, quanto? Dieci. Perché? C'è un grado di parentela? No, assolutamente. Invece al batterista? Al batterista, nove. Alla tastiera? Nove e mezzo. Allora, promossi tutti. Sono stati promossi tutti. Tutti promossi, hanno tutto insuperato la prova. Se mi sveglio e voglio te, dimmi cosa dici di me, che vedo che sono ma non ti lascio stare. Quando siamo in compagnia, dimmi cosa dici di me, che bevo che gioco e poi faccio confusione. Dimmi la tua prima impressione, dimmi la tua prima impressione, di questa intimità, con me come si sta. Quando non so dove sei, dimmi cosa dici di me. Siamo sempre in curiosità, ogni volta che suonate, si scaraventano a mele di persone. Ovviamente ci fa immensamente piacere. Devo dire che io sono ormai arrivato, credo, al 102esimo concerto con questi ragazzacci che stanno facendo la parte strumentale di Parsifal in questo momento. E devo dire che ogni volta è sempre un'emozione nuova. Ci sono degli affezionati che ci seguono quasi in tutti i concerti. Però la cosa bella è anche quella di vedere sempre gente nuova. Poi c'è un passaparola che ci consente di avere sempre il tutto esaurito in qualunque locale poi noi andiamo a suonare. Poco fa ho intervistato delle persone e mi hanno detto che sono venuti incuriositi per ascoltarvi. Era la prima volta addirittura e sono rimasti veramente felici e addirittura ti hanno dato tutti i dieci. Grazie. Senza lode però. Dieci senza lode, sì. La importuno mentre sta consumando questa pizza che dà il colore è buonissima. È buona, sì molto. È la prima volta che viene a Monte Carlo? Sì, sì. Come lo trova questo locale? Bellissimo. Anche piacevole, anche location? Anche location, come location è perfetta. Allora, le faccio una domanda sul gruppo musicale. Si avvicinano anche nei modi, con i modi, agli originali? Sì, tanto. E la prima volta che... Lui ha una bellissima voce e anche a quei modi comunque si avvicinano tanto all'originalità proprio dei bui, sia come voce, sia come modi. Per esempio questa canzone è fantastica, quella di adesso. È la prima volta che le ascolta? A loro sì. Quindi non è che è venuto qua? È venuto a mezzo. Ma è che per caso ho trovato questo gruppo? Sì. È stato una so... Tramite la mia amica. Come? Tramite la mia amica che mi ha detto c'è questo gruppo che suona e canta le canzoni di avvio. Allora ho detto vabbè andiamo. Questa è un'altra. Grazie signora, complimenti. Grazie. Grazie. Se è per caso qua per ascoltare questo gruppo musicale oppure c'è qualcosa di parentela? Anche, io non sono solamente per ascoltare la musica, ma bensì sono il papà di Francesca. Ah, la signora che abbiamo aperto la trasmissione. Esattamente, è il genero, il mio genero Carlo. Carlo. Sono venuto qua, prima perché sono un musicista anch'io. Che strumento suona lei? Io la chitarra e canto pure. Sì. E adesso sono orgoglioso di quello che hanno creato sia mia figlia che... Devo fare complimenti, le devo fare complimenti. Sono veramente orgogliosissimo di tutto quello, tanti sacrifici, tante privazioni di qualche cosa, però adesso finalmente si è riusciti a realizzare qualcosa di buono per Sieracusa. Sieracusa. Ma per Ortigia bella, perché io sono convinto di una cosa, che girando per Ortigia un locale così chic, bello, con prezzi modesti, non li trovo. Può essere la qualità della cucina, del mangiare sano. Per esempio qua si usano il grano antico sia per fare la pizza che per fare la pasta, dal pesce fresco giornaliero, non due o tre giorni. I formaggi che vengono da Monterosso Alamo, Buccheri, i vini, il juice pool che ultimamente avete fatto, non so, un servizio. Sono orgoglioso di tutto. Dato che lei è orgoglioso di tutto e noi siamo orgogliosi di averlo intervistato, perché ci fa piacere a noi vedere questi imprenditori che realizzano questi posti belli da sogno. Le faccio i complimenti, è piacere della conosciuta. Grazie, grazie. 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 Grazie.